C'è ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, oggi andiamo insieme a vedere come vanno a rendere due giocatori usciti tramite SBC nella giornata di ieri, sto parlando di Bradley Barcola Potm tanto atteso e di Crystal Dunn nella sua versione Total Rush. Partiamo da Bradley Barcola, l'esterno francese in forza al PSG che è un po' il rimpiazzo di Mbappé nella squadra parigina è un giocatore che costa tramite SBC circa 220.000 crediti, un giocatore che si presenta con 1,86m di altezza quindi una stazza fisica importante, 4 stelle skill, 3 di piede debole e piede preferito destro. Diciamo che la stazza è un qualcosa che ci piace perché i giocatori che giocano in quella zona di campo più sono fisici più danno fastidio alle difese avversarie, vedesi ad esempio il buon Rafa Leao, quello che però fa storcere un po' il naso è indubbiamente il 4 skill e il 3 di piede debole. Perché non avendo la quinta stella magari fa un po' più fatica a rientrare sulla scoop turn oppure anche un reverse elastico per poter servire i compagni, mentre il 3 di piede debole lo rende molto discontinuo sia per quanto riguarda il discorso passaggi che per il discorso ovviamente tiro finalizzazione sottoporta. Per quanto riguarda i ruoli può giocare sia alla sinistra che esterno sinistro quindi tutta la catena di sinistra e a destra invece può fare l'alla destra. Quindi diciamo che quelli che sono i suoi competitors più immediati magari andiamo subito a pensare ad un Son per quanto riguarda la Premier League, un Salah a destra oppure proprio il Dembélé che è il suo compagno di squadra all'altra parte che però è 5-5 quindi presenta delle caratteristiche importanti e soprattutto è una carta scambiabile. Andiamo a vedere però i attributi quindi le statistiche di questo barcolà come rendono effettivamente un giocatore discretamente veloce perché comunque sull'allungo prende abbastanza velocità e anche nel primo passo si sente un po' quello strappo. Poi però strappo che va un po' a scemare visto che il gioco al momento ha dei grossi problemi per quanto riguarda il discorso della velocità però lui bene o male un minimo un allungo ce l'ha. Per quanto riguarda il tiro secondo me non è un finalizzatore incredibile ha 83 di finalizzazione e 81 di potenza tiro che onestamente sottoporta un po' discontinuo lo fanno essere addirittura il 78 di tiro da fuori alle volte si è rivelato persino meglio ho fatto un paio di gol da fuori interessanti con questo barcolà però complice anche il fatto che è presente al 3 di piede debole perché onestamente sottoporta non risulta un'opzione così efficace quando dobbiamo andare a concludere la nostra azione. Meglio sicuramente per quanto riguarda i passaggi perché soprattutto l'85 di passaggio corto quando andiamo a fraseggiare o quando andiamo a fare un driven pass dall'esterno verso lato dentro che possa essere un centrocampista che poi rifornisce un trequartista o direttamente alla punta li fa abbastanza precisi. Rimane ovviamente il problema del piede sinistro che è veramente un qualcosa di un po' così però con il suo piede forte ovvero il destro li fa abbastanza bene. Agilità 90 reattività 83 controllo palla 84 sono dei parametri che invece si sentono abbastanza peccato l'equilibrio perché quando arriva non può dargli fastidio sto barcolà è come se incespicasse ma questo purtroppo capita un po' con tutti però diciamo che palla al piede non se la cava malissimo in questo gioco dove non è che si ha questa grandissima mobilità palla al piede lui se la cava discretamente. Pecca leggermente sempre per il discorso dell'equilibrio in forza motivo per il quale appunto non è proprio super resistente pecca anche leggermente per quanto riguarda il discorso dell'aggressività che lo fa alle volte sembrare un po' troppo passivo bene invece l'84 di freddezza. Per quanto riguarda i playstyle abbiamo la batteria che quindi si sposa bene con l'80 di resistenza il rapido e il tiro a giro bianco che onestamente non ho sentito particolarmente perché sappiamo quest'anno come sia già più difficile segnare a giro se non c'è il playstyle plus peggio mi sento. Quindi onestamente il tiro a giro non l'ho sentito tanto meglio invece il rapido che lo facilita per quanto riguarda il discorso della corsa come vi dicevo in precedenza. Per quanto riguarda invece i ruoli relativi alle posizioni di campo che può occupare questo barcolà ha praticamente l'attaccante interno plus in tutti e tre le sue posizioni ovvero la S, la D e la S. un attaccante interno plus che lo fa muovere bene anche senza il pallone visto anche il potenziamento che c'è stato e i movimenti di questo ruolo nello specifico con l'ultima patch. Se vi devo dare un mio giudizio onestamente il mio è un grosso no su questo barcolà neanche se avete i fodder neanche se ve lo regalano per il semplice fatto che è un giocatore che comunque costa è 4-3 non è 4-4 c'è la sua versione speciale che è vero che costa di più però è 4-4 è dinamica quindi si può uppare e visti quelli che sono i competitors onestamente non me lo andrei a sbloccare non andrei a fermare 200k su una carta del genere è un po' lo Yamal del Paris Saint Germain una carta che al momento vorrebbe ma non può essere. Passiamo invece alla Dan una giocatrice di 1,55 m 4 skill e 4 di piede debole piede destro preferito come al solito. Per quanto riguarda questa giocatrice abbiamo una SBC dal costo nuovamente di circa 210.000 crediti ma già un vantaggio di partenza clamoroso perché lei linka tutte quelle che sono le giocatrici più meta del momento come ad esempio la Morgan, la Smith, la Swanson, la Rodman eccetera. Quindi già questo su questa Dan ci fa un attimino avviare un ragionamento diverso che poi si va a completare nel momento in cui noi andiamo a guardare le posizioni perché abbiamo il CC, il TD, le D e la S quindi praticamente la possiamo inserire in quasi tutte le zone del campo. Ma andiamo a parlare di quello che è però il suo rendimento. Un rendimento di una giocatrice che corre nonostante è piccolina soprattutto sul primo passo risulta abbastanza bruciante quindi molto bene il 90 di velocità. Il tiro ovviamente non è irreprensibile visto che abbiamo un 80 di finalizzazione e un 82 di potenza tiro ma comunque quando si trova proprio che deve tirare che è l'unica ultima opzione se la cavicchia abbastanza bene. Bene benissimo i passaggi perché abbiamo 88 di corto e 84 di lungo quindi veramente molto bene. Riesce a servire alla perfezione i compagni. Una carta stra agile che non ve lo devo stare neanche a dire come si muove sta Dan e soprattutto grazie al 94 di equilibrio riesce a reggere anche tantissimo fisicamente perché avendo il bari centro basso è difficile che la vanno a spostare. Bene l'85 di freddezza, bene le statistiche difensive. L'unica pecca è l'82 di intercetto ma non tanto per l'82 di intercetto ma perché essendo un metro e 85 alle volte proprio fisicamente non ci arriva su determinati palloni. Bene le stats di fisico, pecca leggermente in aggressività motivo per il quale vi consiglio di giocarla con Ancora che busta un po' velocità, difesa e soprattutto appunto l'aggressività. Come stili di gioco abbiamo il razzetto, la batteria e il rapido che sono bianchi e ci interessano e ci piacciono mentre per quanto riguarda i ruoli relativi alle posizioni abbiamo il regista largo plus per le D il CC alla mezza la plus e la S alla la plus quindi in questo marasma di posizioni voi mi direte si tutto bello matte ma questa do la giochiamo? Perfetto. L'ho provata terzino, terzino fa fatica perché quando arrivano gli esterni a tutta velocità che sono giganti con lei ci fate il solletico quindi terzino ve la sconsiglio. L'ho provata davanti, quindi l'ho provata sia esterno di centrocampo che a S esterno di centrocampo ancora ancora a fare un po' di calcio, passaggi, cose robe, ok ma la che si ritrova invece a dover finalizzare, a dover fare la guerra con giocatori fisici stesso discorso del terzino sconsiglio caldamente mentre mi è piaciuta tanto da CC non da mezzala plus perché la mezzala come ruolo non mi piace troppo ma da box to box quindi slegandola un po' da quello che è il discorso difensivo chiaramente perché piccolina non è che dà troppo fastidio in fase difensiva anche se comunque quando si attacca è bella tignosa come giocatrice però mettendola lì a fare un po' da fluidificante anche con la sua grande agilità che vi permette di recuperare un sacco di tempi di gioco lo mi è piaciuta e visto che ci ricolleghiamo al discorso di prima relativo all'ibridabilità io lei ve la straconsiglio e al momento secondo me potrebbe essere una delle prime SBC che veramente va sbloccata anche solo da tenere lì per poi tenerla e usarla come jolly ragazzoni anche per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori se li avete sbloccate, se li sbloccherete, se ce l'avete fatto, cosa ne pensate a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone a vostri Beroschi a presto, ciao